È un bando trasversale che si rivolge a diverse tipologie di imprese, sono escluse quelle agricole e sono ammesse quelle dell'agroindustria fino a 15 addetti, commercio, artigianato, industria, tutto ammesso. È un bando che prevede un finanziamento in conto capitale, quindi destinato ad investimenti con un massimale di 150.000 euro che deve essere pari al 70% del costo complessivo del progetto e un valore minimo del progetto di 25.000 euro. Gli interventi ammessi sono appunto nuovi insediamenti, naturalmente parliamo di insediamenti che si realizzano in spazi esistenti, naturalmente l'innovazione, la digitalizzazione, quindi sono ammesse davvero tipologie molto variegate. Al momento abbiamo a disposizione 2 milioni e mezzo, sono previste premialità per le imprese che si collocano nei comuni con meno di 5.000 abitanti e nei comuni più disagiati dal punto di vista della morfologia, quindi i comuni che sono alla quota altimetrica più elevata e quelli che hanno un indice di fragilità maggiore.